Oltre dieci secoli di storia del più antico tempio di Legnano. La primitiva cappella sulle cui vestigia fu costruita nel XVI secolo l'attuale chiesa di Sant'Ambrogio, forse era dedicata a San Nazaro. È la più antica di Legnano e la più importante fino a quando non fu realizzata la chiesa del Salvatore, che è l'attuale basilica di San Magno. La prima citazione di un tempio dedicato a Sant'Ambrogio e Legnano è in un elenco del 1389 e tracciato da Coffredo da Bussero. Nello stesso manoscritto si menziona una chiesa dedicata a San Nazaro, non più esistente alla data del 1304. Se le croniche dell'epoca danno con certezza notizia che in una chiesa situata fuori dalle mura della braida arcivescovile fu sepolto nel 1257 l'arcivescovo Leone da Perego, deduciamo chiaramente che si trattava di questo edificio sacro, solo più tardi dedicato a Sant'Ambrogio e non a caso, come vedremo. Nel 1992, allorché i lavori di restauro dell'attuale chiesa, iniziate sette anni prima, interessarono il rifacimento del pavimento, gli scavi portarono alla scoperta di fondazioni del primitivo edificio, una struttura absidale in curva, edificata utilizzando i solo ciotoli bianchi del greto dell'Olona. Ma le sorprese non terminarono qui, in quanto a un livello ancora più basso, sempre durante gli scavi, si ebbe l'emozione di rinvenire un'ansa di vaso che gli archeologi hanno fatto risalire alla metà del V secolo d.C. Questo evento, retrodata quindi di almeno 500 anni, esattamente alla stessa epoca del vaso rinvenuto, la primitiva chiesa lignanese, che era più vecchia di San Magno. Ciò vuol dire che quando si combattè a Legnano la famosa battaglia, nell'attuale vecchio borgo di Sant'Ambrogio, esisteva in quel luogo un edificio ecclesiastico. Il santo protettore di Milano morì il 4 aprile del 397, dunque verso la fine del IV secolo. A questo punto procediamo per deduzioni. Il grande vescovo Ambrogio, tenace combattente dell'arianesimo, conservò anche, dopo la sua morte, un profondo culto in tutto milanese. Da qui l'ipotesi che la chiesa, che era forse una modesta cappella, indicata nel manoscritto di Goffredo da Bussero con il nome di San Nazaro, fosse stata poi dedicata nel V secolo a Sant'Ambrogio, denominazione tramandata fino a noi, e che doveva trattarsi di una chiesa importante non solo nell'Alto Medioevo, ma anche nei secoli successivi, ed è provato dal fatto che frequenti descrizioni di questo monumento ci arrivano regolarmente nelle varie visite operate nel XVI secolo da San Carlo Borromeo. La chiesina ci viene descritta a due navate, in cui una, la meridionale, è aperta a modi portico, ed è più alta della parte chiusa, coperta non da mattoni, ma da travi di legno e da assi, a pareti rustiche. E si parla, si parla già, di un campanile molto alto, forse troppo rispetto alla modestia della costruzione di allora. Segnone è che il Tempio, nelle intenzioni dei legnanesi di quei tempi, era destinato ad uno sviluppo maggiore rispetto allo sconclusionato insieme architettonico edificato sopra la chiesa del V secolo. Sant'Ambrogio, costruita a nuovo nel secolo XVI e promulgata fino al XVIII secolo, è stata testimone di oltre dieci secoli della storia di Legnano. Il prevosto Agostino Pozzo, nel 1650, scriveva che facendosi dei lavori di ricostruzione nell'antica chiesa di Sant'Ambrogio, fu trovato il corpo dell'arcivescovo Leone da Perego sotto un volto del muro, poco elevato da terra, tutto intero, in un grosso tronco di arbore e scavato a modo di culla e scrivendo questo vievano persone che attestavano a averlo veduto. Venne ciò a notizia di San Carlo vivendo qua. Si trovò una sera in Legnano e, riconosciuto il tutto, la mattina immediatamente seguente non si vide né l'arcivesco vivo né il morto. Cosa significa? Da questo momento inizia il mistero della scomparsa della Salma di Leone da Perego. Qualcuno aggiunse che anche nel tesoro che, secondo la leggenda, era stato seppellito assieme ad esso, sempre nelle sue crone che è il pozzo, avanza l'ipotesi del trasferimento in quell'occasione della Salma dell'arcivescovo in San Magno. Ipotesi. Qualcuno, in epoca a noi più vicino, mise in relazione con Leone i resti mummificati di una salva nel cimitero di Rò. Ma prove certe non sono mai arrivate. Ma la chiesa di Sant'Ambrogio non è rinomata solo per questa sua lunga storia, oltre che per i dipinti del Giambattista e Francesco Lampugnani. XVII secolo, tra i quali il più celebre rappresenta Sant'Ambrogio, acclamato vescovo. Questo si trova in una tela restaurata con il contributo anche della famiglia legnanese. Ma nonché di alcuni altri quadri è il pregevole dipinto della Vergine coi Santi, Carlo, Francesco e Magno. Il Tempio è legato a un altro avvenimento memorabile per Regnano, di essere stato, cioè, sede della più vecchia scuola pubblica dell'antico borgo. Ordinò di istituirla nella chiesa San Carlo Borromeo in occasione della visita pastorale del 1570, affidandola alla Compagnia dei Disciplini, fondata dal beato Alberto da Busto Arsizio. Dopo rimaneggiamenti sostanziali tra 1592 e 1595, al tempo del governo milanese di Gaspare Visconti, la chiesa subì un nuovo ampliamento nel 1780, proprio per la sua funzione mista di luogo di culto e scuola dei disciplini, perché era insufficiente a contenere tutti gli allunni del borgo. Fu così allungata dalla parte del coro e la nuova parete fu decorata in stile barocco. Dopo i recenti restauri conclusi nel 1992, che compresero anche la rimessa appunto del celebre organo Carrera, che è del 1886, con i contributi determinanti dalla Caripro, della Manifattura di Legnano e del Lions Club di Legnano, e nonché dalla contrada di Sant'Ambrogio, della parrocchia di San Magno e della famiglia legnanese. La più antica chiesa di Legnano è tornata, quindi, al suo pieno splendore. Grazie a tutti.